Corus Life è un intervento che comprende oltre a sviluppo immobiliare edilizio residenziale anche un concetto di innovazione tecnologica di portata molto avanzata. Corus Life è quindi un sistema che deve portare all'integrazione sociale delle tre generazioni come dice il suo fondatore, il suo inventore, il Cavalier Bosatelli. Con ampi spazi in cui le tre generazioni si possono incontrare coadiuvate da un ampio e importante utilizzo della tecnologia. Quindi Corus Life è un intervento che coniuga innovazione da un punto di vista realizzativo e costruttivo con un utilizzo sempre più accurato di tecnologia digitale. In quest'ambito appunto si integrano i sistemi costruttivi tradizionali con la digitalizzazione dei processi e lo sviluppo tecnologico avanzato degli impianti. L'impresa per Cassi per affrontare questa commessa si è strutturata con cinque cantieri indipendenti ognuno con la propria organizzazione e in staff a questa organizzazione che è presidiata da un direttore tecnico di progetti, l'architetto Aldo Franzetti c'è una unità destinata alla sorveglianza e al controllo dei presidi di sicurezza. Il monitoraggio della sicurezza, aspetto molto importante, viene sviluppato da Impresa per Cassi con una struttura dedicata in staff all'organizzazione di cantieri, ovvero al direttore tecnico di progetto la quale opera in accordo al documento redatto insieme ad ATS avente come obiettivo la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto il gruppo della sicurezza sviluppa, controlla, supervisiona che tutte le attività vengano svolte in sicurezza per i lavoratori. In questo cantiere Corus Life Bergamo abbiamo fornito e abbiamo poi con loro redatto progettualmente le nostre strutture che sono oggi presenti in cantiere e che hanno potuto risolvere in maniera esemplare il problema della situazione economica e soprattutto di disponibilità del mercato a livello di ponteggi. Avevamo tutti gli interpiani uno diverso dall'altro e se non avevamo gli scudi qua non saremmo riusciti a salire con questa tempistica perché poi si poteva fare il punteggio ma con queste tempistiche non saremmo riusciti a salire così velocemente. Ulma con noi collabora da parecchi anni, siamo cresciuti noi, siamo cresciuti con loro, ci troviamo bene sia nel tempo di consegne e sia nell'assistenza che ci dà nella progettazione, nell'assistenza di montaggio. Sicuramente Ulma ci ha fatto avvantaggiare sulle tempistiche e essere molto più veloci nella consegna nei vari lotti. Grazie.